Nuovo appuntamento con l'informazione di oggi a nord-est. Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha firmato l'ordinanza contingibile urgente numero 4 2021 con cui apre anche agli sciatori amatoriali ad accorrere dal 19 febbraio fino al 5 marzo gli impianti nelle stazioni e nei comprensori sciistici. Considerato che le misure ultime adottate a livello statale e regionale hanno determinato il contenimento del contagio in misura tale da consentire il rientro della regione in zona gialla, si è ritenuto tuttavia necessario, ha spiegato Federica alla luce dei dati epidemiologici che rappresentano una situazione ancora seria, a continuare a ridurre al minimo la possibilità di assembramento. L'ordinanza percepisce le linee guida che l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali della conferenza delle regioni. Il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune, cabinovie, funivie, seggiovie, e skillift presenti nel comprensorio sciistico, nella stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio. Ricordiamo in questo luogo simbolo 17 vite spezzate nel 1945, la Malga di Porzus è uno dei tasselli, uno snodo importante della nostra storia che permette di riconoscere chi siamo e soprattutto quale ruolo vogliamo avere nel futuro che stiamo scrivendo, il momento storico attuale, infatti costringe a rimetterci in gioco ad assumere delle scelte, dobbiamo aprirci ad un'Europa nuova per essere protagonisti della costruzione del nostro futuro. L'ho detto l'assessore regionale alle infrastrutture territorio Graziano Pizzimenti a margine della commemorazione del 76esimo anniversario dell'Ecidio delle Malghe di Porzus celebrata prima in piazza Monsignor Pelizzo a Faedis con la posa di una colonna d'oro sul monumento ai caduti e alla presenza anche del presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin e aperta dal sindaco di Faedis Claudio Zani e poi proseguita nella chiesa parrucchiale di Canebola con la celebrazione della Santa Messa. Se in montagna si sono raggiunte temperature polari con meno 27,7 gradi a piana di Marcesina Vicenza a quota 1310 metri nei capoluoghi veneti le minime sono state tutte sotto lo zero con il la record a Belluno di meno 8,8. Il bollettino dell'ARPA Veneto mosse una situazione di gelo estesa a tutta la regione Veneto a partire da Ziago a 1600 metri dove il termometro si è fermato anche a meno 18,1 proseguendo per Sappada con meno 17, Santo Stefano di Cadore con meno 16,8, Falcade meno 15,3 a Rabba meno 14,7 a Cortina d'Ampezzo dove sono i corsi mondiali di sci il termometro segnato meno 14,5. Nei capoluoghi di regione il record l'ha raggiunto a Belluno seguito da Vicenza con meno 8, Treviso meno 6, Padova meno 5,2, Venezia meno 4,5. Chiudono Rovigo e Verona entrambi con meno 4. Cronaca un inseguimento a piedi attraverso le calli e i giardini di alcune abitazioni private scavalcando vari cancelli di cinta fino a che gli agenti delle volanti lagunari non sono riusciti a raggiungerli. È successo nelle prime ore del mattino di sabato a seguito di una segnalazione telefonica al 113 poliziotti hanno intercettato a Cannareggio tre persone con due trolley intente ad armeggiare sulla porta d'ingresso di un'attività commerciale di vendita al dettaglio di piccoli elettrodomestici. Alla vista degli agenti i tre si sono dati alla fuga abbandonando sul posto le due valigie al cui interno erano stati riposti già diversi beni sottratti al negozio. Ne è scaturito l'inseguimento attraverso cui due dei tre che hanno provato ad affrontare fisicamente i poliziotti sono stati bloccati. A Trevignano i militari del nucleo operativo della compagnia Carabinieri di Montebelluna hanno arrestato un 22enne di Montebelluna già gravato da pregiudizi. Il giovane è stato individuato mentre era a bordo della propria autovettura e a seguito di una perquisizione prima al mezzo e poi nella sua abitazione sono stati rinvenuti 300 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish e un bilancino di precisione. Il ragazzo dopo le formalità di rito è stato infine riaccompagnato presso la propria abitazione dove si trova agli arresti domiciliari. Da precisare che il fermo è avvenuto a seguito degli sviluppi investigativi legati all'arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti di un 23enne lo scorso 16 gennaio. È scivolato per una cinquantina di metri lungo un pendio ghiacciato procurandosi diverse fratture ad una gamba. Si tratta di una classe 1990 di San Daniele in corso nell'infortunio nella zona di Malga a Vrint sul versante nord del monte Piombada nel comune di Verzegnis. La chiamata ai soccorsi è arrivata, ha attivati la stazione di forni a volte del soccorso pieno e speriologico, la guardia di finanza e vigilia del fuoco e l'elico soccorso regionale a chiedere aiuto tre giovani, due maschi e una femmina che stavano appunto percorrendo la strada forestale quando uno di loro che calzava delle semplici scarpe da ginnastica è scivolato dal ciglio prendendo velocità lungo il pedido sottostante. Nel tentativo di fermare la caduta si è aggrappato all'amico facendo cadere anche lui, fortunatamente l'amico è riuscito a fermarsi ripotando poche contusioni mentre il ragazzo è scivolato per 50 metri fermandosi contro delle piante. Prendono a calce e pugni il distributore della sigaretta probabilmente per una mancata erogazione del prodotto o del resto ma vengono ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, protagonisti dell'episodio due giovani privi di mascherina che si sono scagliati contro la macchina automatica a denunciare pubblicamente l'accaduto attraverso un post social la proprietà dell'attività commerciale Emporio Spizzo di Colugna Anna Bettuzzi esasperata dai diversi episodi di vandalismo. Sport, calcio, la Triestina batte la Ravenna a Ravenna per 1-0 dopo la buona prestazione casalinga contro il Legnago l'undici di Pilon gestisce bene il match anche in trasferta e trova la vittoria grazie a un bel destro del bomber all'abbardato. Sale ora dunque l'unione a quota 39 in campionato. Bene Giorico, Procaccio e Lopez così come un impreciso Mensa NM Magazine, la prima e unica rivista italiana sul network marketing dedicata al Networker Scopri la versione online su www.nmmagazineworld.com Sul Friuli Venezia Giulia al mattino sereno o poco nuvoloso con velature in giornata cielo da poco nuvoloso a variabile per l'arrivo di nuvolosità ad alta quota gelate estese nelle ore notturne ma le temperature massime in lieve aumento su tutte le zone temperature in pianura minime da meno 9 a meno 4 le massime da 5 a 7 sulla costa da meno 3 a più 2 le massime da 4 a 7 gradi centigradi. Passiamo al Veneto Tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso salvo transito di modesti nubi alte dal pomeriggio sera assenza di precipitazioni temperature valori massimi in aumento in quota e stabili in pianura minime con variazioni locali ancora ben sotto lo zero anche in pianura venti in pianura in prevalenza deboli moderati da sud ovest tesi settentrionali in quota mare poco mosso previsioni a cura di ARPA FWG Meteo e di ARPAV agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto per il momento dal nord est è tutto appuntamento alla prossima edizione Grazie a tutti